Caro Raffaele, cari delegati, è con una grande emozione che prendo la parola qui oggi e con una grande emozione che prendo la parola dopo aver ascoltato la relazione del segretario generale. Raffaele ha detto delle parole molto importanti, la lunga lista di ministri che è stata appena letta ha preso nota, poi io domani li interrogo tutti per vedere se hanno tutti preso bene il punto. Io ho sicuramente aperto le orecchie e ascoltato, però devo dirvi la verità, per me è anche stato molto facile perché le parole che ha detto Raffaele oggi sono le parole che sento profondamente radicate nel mio cuore, nella mia testa e in fondo Raffaele è quello stesso slogan che ha accompagnato il vostro congresso, uno slogan così semplice ma così significativo, l'Italia della responsabilità, è lo stesso slogan e sono le stesse parole che accompagnano da 41 giorni la mia vita, il mio lavoro e il lavoro di tutti quelli che in questo momento stanno lavorando con me. Il mio vuole essere quindi un saluto di buon lavoro per questi tre giorni ma voglio anche entrare nel merito di alcune delle cose che hai detto perché credo che sia importante che questo congresso non soltanto nella tua relazione ma anche nella discussione che farete in questi giorni sia un congresso che dà un contributo alto e importante alla discussione che in Italia è in corso su tutti questi temi. Io sono molto contento di questa coincidenza innanzitutto, mentre voi siete qui noi stiamo preparando e svolgeremo venerdì prossimo questo appuntamento così importante qui a Roma e voglio dirlo con umiltà, essere riusciti a ottenere che i ministri del lavoro e delle finanze insieme, spingo l'attenzione su questo concetto, insieme i ministri del lavoro e delle finanze che nell'idea che noi abbiamo di Europa devono essere i ministri che insieme non l'Ecofin per conto suo che decide, ma i ministri del lavoro e delle finanze che insieme qui a Roma, i ministri del lavoro e delle finanze della Germania, della Francia e della Spagna insieme ai nostri ministri Saccomanni e Giovannini che discuteranno di occupazione giovanile e di come fare di questo tema il tema chiave del prossimo Consiglio europeo. Per me questa è una grandissima soddisfazione, ma credo che sia un grande fatto che questo si svolga in contemporanea con il vostro congresso, perché il messaggio che noi daremo da Roma è il messaggio che io ho provato a dare al primo Consiglio europeo al quale partecipato, il 22 maggio. Vi confesso che ero lì e l'emozione era più forte di qualunque altro sentimento. L'emozione e l'orgoglio di rappresentare il mio Paese in quella sede, la sede più alta dell'Unione europea, quell'Unione europea che noi dobbiamo costruire secondo le linee che Raffaele qui ci ha rappresentato. In quella sede io mi sono permesso, forse un po' insolentemente, di dire un concetto al quale però credo profondamente e che voglio qui ripetere. Lì ho detto, siccome si parlava di Unione bancaria e si parlava di Unione bancaria come il tema principale del prossimo Consiglio europeo e siccome noi siamo favorevoli all'Unione bancaria, crediamo che l'Europa debba fare l'Unione bancaria. Anzi, crediamo che siano sbagliate le posizioni di quelli che oggi stanno frenando l'Unione bancaria e faremo quindi una battaglia per avere il completamento dell'Unione bancaria. Ma proprio per questo motivo lì ho detto, ma se noi avessimo, e sarebbe già un grande risultato, solo l'Unione bancaria come tema di discussione al Consiglio europeo, e uscissimo per la strada ognuno di noi, primi ministri dei 27 Paesi, e parlassimo con ognuno dei cittadini dei nostri Paesi, che vivono oggi la fatica, la fatica del lavoro che non c'è, la fatica del lavoro che non c'è per i loro figli, la fatica delle loro famiglie, e gli dicessimo che nel momento più alto della crisi l'Europa come risposta ti dà l'Unione bancaria. Ma avrebbe ragione la gente a ribellarsi contro l'Europa? Perché se questa è la sola risposta che siamo in grado di dare, noi dobbiamo dare risposte calde, che parlino alla testa e al cuore dei nostri concittadini, che rispetto alla risposta solo dell'Unione bancaria, sarebbero immediatamente portate a rispondere. Ecco, gli eurocrati, i banchieri si sono messi d'accordo per rispondere ai loro problemi, non ai nostri problemi. Ecco perché lì dentro ho detto che noi non possiamo uscire dal Consiglio europeo se non ci sarà un messaggio forte, concreto, non solo parole, ma fatti, sul tema che oggi è più drammatico per la vita delle famiglie europee, il fatto che in ogni famiglia c'è un giovane che non trova lavoro e questo è insostenibile. Venerdì parleremo con i ministri del lavoro e delle finanze di questi altri tre fondamentali Paesi europei. Cercheremo insieme a loro di mettere un'agenda che ci consenta di dire che dal prossimo semestre e dal prossimo 2014 non saranno solo parole quelle a favore della lotta contro la disoccupazione giovanile, ma saranno fatti concreti. I temi legati alla detassazione del lavoro per i giovani, i temi legati all'anticipo dello Youth Guarantee, i temi legati al fatto che i tirocini, gli apprendistati devono essere vissuti con un maggiore investimento in modo diverso da come li abbiamo vissuti, il fatto che attorno a tutti questi temi ci deve essere un grande impegno collettivo. Insomma ritengo che questo messaggio forte che uscirà da Roma venerdì debba essere un messaggio che l'intero Paese amplifica. Non ho dubbi che noi ce la faremo soltanto se ci sarà un messaggio ampio e collettivo. E qui il ruolo della politica e del governo è un ruolo, l'hai detto tu prima parlando di altri termini, è veramente un ruolo di servizio al Paese. Quando io ho detto un governo di servizio al Paese intendo proprio questo, che il governo da solo non ce la farà mai, la politica da sola non ce la farà mai. O siamo tutti insieme e siamo tutti insieme a cercare di farcela per un obiettivo, per cercare di raggiungerlo quell'obiettivo, oppure non ci riusciremo mai. A me viene sempre in mente in questi casi quella scena che molti papà della mia età si ricordano perché l'hanno vista cento, duecento, mille volte insieme ai loro figli. La scena di quel film in cartone animati del pesciolino Nemo, in cui il pesciolino Nemo che alla fine di una lunga rincorsa ha recuperato il papà, l'ha ritrovato, e il pesciolino Nemo che si trova che dopo aver recuperato il papà, il papà si infila insieme a un branco di pesci molto grandi con le reti di un peschereccio che li ha presi e li sta tirando su. Questi pesci sbattono nella rete, ognuno per conto suo, e sbattendo nella rete ognuno per conto suo ovviamente non sono minimamente in grado di evitare che il peschereccio tiri su la rete, li porti su e porti su anche il papà di Nemo che Nemo ha recuperato dopo un viaggio lunghissimo che è durato tantissimo. E allora Nemo spiega per l'appunto e cerca di far capire e riesce alla fine a far capire a tutti quei pesci che sono lì che se sbattono ognuno in una direzione diversa non ce la faranno mai. Ma gli spiega che se tutti spingono con le loro forze nella stessa direzione succede il miracolo. Il miracolo è esattamente quello che succede nel film, cioè tutti tirano nella stessa direzione, si rompe la rete, la rete li libera e Nemo ritrova il papà. È un messaggio per i bambini fortissimo, ma io penso che alla fine i messaggi semplici per i bambini forse dobbiamo recuperarli anche noi. Perché se non capiamo che o siamo tutti insieme a rimare nella stessa direzione oppure i problemi enormi che abbiamo non li risolveremo. Perché non ci sarà più come troppe volte c'è stato in passato. Non ci sarà più un debito pubblico al quale possiamo attingere per dare un pezzettino di risposta a ognuno. Perché quel debito pubblico al quale attingere per dare un pezzettino di risposta a ognuno oggi si è rivelato il più drammatico fardello sulle spalle di tutti noi. E oggi siamo qui a cercare di rimanere nella stessa direzione per far sì che quelle scelte e quella direzione di marcia condivido su molte delle cose che hai indicato come gli obiettivi prioritari dobbiamo raggiungere. Hai detto una parola forte, la parola partecipazione. è una parola che fa parte del mio DNA e credo fortemente che l'appello che tu hai fatto sull'articolo 46 della Costituzione sia un appello forte. E io penso e arrivo a dirlo da qui che se noi non cogliamo l'occasione di questa situazione politica Raffaele, se non cogliamo l'occasione di questa situazione politica, di questa emergenza, di questa nuova e rinnovata unità sindacale che io oggi da qui voglio celebrare come uno dei più grandi e positivi eventi che la storia politica del nostro Paese stia registrando, non ci saranno altre occasioni come questa. Quindi voi dovete sapere che noi ci siamo su questa partita, ci siamo rispettosi perché ci hanno insegnato fin da bambini che l'autonomia è uno dei valori principali, attorno ai quali si costruisce quel valore di partecipazione che nella nostra Costituzione ha scritto così bene. L'autonomia, il protagonismo delle parti sociali, dei corpi intermedi, quei corpi intermedi che non a caso nella follia distruttiva di qualcuno sono stati criticati e messi insieme tutti nello stesso calderone, tutti da battere, tutti da buttare giù. Non è così che si salverà l'Italia. L'Italia si salva se riusciamo a fare nei tempi giusti le riforme che dobbiamo fare, se riusciamo a liberare l'Italia da quel peso, il peso di un fisco che colpisce nel modo asimmetrico col quale dicevi prima e se riusciamo soprattutto a mettere al centro il tema che io vorrei fosse al centro del nostro impegno comune e sicuramente al centro del mio impegno e del nostro impegno come Governo. L'abbiamo messo fin dall'inizio al centro di tutto. Se non c'è il lavoro un Paese non si salva. L'impegno che io mi prendo qui con voi, l'impegno che ci prendiamo tutti noi è l'impegno di lavorare incessantemente per rimettere il lavoro al centro di tutte le politiche del Governo e del nostro Paese. È necessario farlo nelle modalità giuste, cercando di spingere il lavoro di qualità ovviamente, cercando di spingere il lavoro a tempo indeterminato, cercando di lavorare perché è quel cuneo fiscale che giustamente tu hai indicato come la vera zavorra del nostro Paese. Perché è una zavorra a assumere ed è una zavorra a lavorare. E noi dobbiamo lavorare sapendo che ci sono delle priorità, che non si può fare tutto e che ci sono delle priorità. La prima priorità è sicuramente quella. La prima priorità è il lavoro, far ripartire il Paese, essere in grado di nuovo di creare occupazione. E perché sono partito dal lavoro per i giovani? Perché sono partito dal lavoro per i giovani? Io sento, e guardate lo sento sulle mie spalle e mi pesa la responsabilità di tanti che incontro e che hanno 50 anni, che hanno 55 anni, che mi dicono ma parli sempre di lavoro per i giovani, ma noi. E' vero, è vero. Però fatemi dire una cosa. Perché oggi il Paese è fermo? Perché oggi il Paese è fermo? Sono tante le ragioni. Ma secondo me, e qui non è un'analisi di nessun centro studio, è semplicemente il mio naso nel rapporto con i miei amici, con le famiglie delle persone che hanno la mia età, le persone che hanno figli a scuola. Quelli della mia età, in questo momento, che hanno figli, fanno oggi una scelta che è basata sull'idea che i propri figli non riusciranno ad avere un lavoro decente come ognuno di noi, più o meno, ha trovato il modo di avere. E se i tuoi figli non avranno un lavoro decente, tu cosa fai se tu hai un lavoro decente oggi? Tu concentri tutte le tue forze, tutte le tue energie, tutte le tue risorse per costruire una infrastruttura attorno a tuo figlio, che magari oggi è piccolo, in modo tale che tuo figlio, anche facendo un mezzo lavoro in futuro, possa mantenere lo stesso livello di benessere che tu gli hai garantito da bambino. Ma così facendo qual è l'effetto? Che si immobilizzano risorse. Io, genitore, prendo le risorse che oggi sono il frutto del mio lavoro, le metto immobili attorno al futuro di mio figlio e questo, guardate, è una scelta che se uno ti prende singolarmente è la scelta che ognuno di noi definisce del buon padre di famiglia. Il problema è che se ci mettiamo in 60 milioni a fare tutti questa stessa scelta, questa stessa scelta porta il Paese al disastro, perché è la scelta che immobilizza le risorse, porta a non investire più, a non guardare al futuro, a non creare lavoro, a non creare ricchezza. Noi dobbiamo partire da lì. E qual è il punto? Essere in grado di dire a ogni famiglia italiana che stiamo creando condizione perché tuo figlio il lavoro lo trovi, perché tuo figlio esca da quella situazione drammatica di essere in fila, in coda, senza trovare alcuna opportunità. Perché se scatterà questo meccanismo, io sono convinto che se scatterà questo meccanismo, tornerà la fiducia anche in investire, smetteremo di immobilizzare tutte le risorse e le ricchezze che ci sono. E questo è un punto chiave ed è un punto che dobbiamo gestire insieme. E dobbiamo gestirlo insieme a partire da quel risultato così fondamentale che voi il 30 di aprile avete messo in cantiere. Io l'ho trovato quel messaggio un messaggio straordinario. Innanzitutto nella sua data. Fare quella scelta alla vigilia del primo maggio è stata una scelta straordinaria. Fare quella scelta nel momento nel quale nasceva un governo con le caratteristiche di questo governo è stata una scelta altrettanto straordinaria. Avete dato un contributo fondamentale al Paese. Adesso bisogna che questo contributo lo mettiamo in pratica. È anche responsabilità nostra e dobbiamo metterlo in pratica attraverso scelte concrete che ci consentano di dire che su questi temi riusciamo a raggiungere i risultati. Hai detto un'altra parola importante che voglio riprendere. Hai parlato del nostro Paese che deve tornare a essere un grande Paese industriale. Io ci credo a questo, ci crediamo. Non possiamo immaginare che l'Italia smetta di essere l'Italia. L'Italia è stato un grande Paese che ha creato. L'Italia è stato un grande Paese che è riuscito a far sì che attorno alle cose che creavamo il resto del mondo ci guardava con invidia. Non possiamo essere un Paese che vive di rendita. Dobbiamo essere un Paese che di nuovo comincia a creare, ricomincia a creare. Il tema dell'industria è fondamentale. Ieri l'Unione Europea su proposte e sul lavoro del commissario italiano, il vicepresidente Tajani, ha approvato un grande piano per il rilancio dell'industria dell'acciaio nel nostro Paese. Vista dall'Italia sembra una cosa forte, ma è l'indicazione di una strada che non dobbiamo perdere, dobbiamo assolutamente recuperare. Se sono questi i temi su cui io vorrei che lavorassimo, i temi sui quali cercare di metterci all'opera, credo, Raffaele, e sono sicuro che sarà così per questi vostri giorni di congresso, che il ruolo del sindacato, il ruolo della CISL sarà un ruolo decisivo, fondamentale e troverete in noi non soltanto un interlocutore, ma troverete in noi un punto di riferimento per far sì che attorno a quei temi riusciamo a camminare insieme. Nella logica di autonomia alla quale tu hai fatto riferimento, e voglio terminare su questo, una logica di autonomia che vuol dire responsabilità, ognuno nel suo campo, ognuno sapendo che non esiste un sindacato che non faccia il suo mestiere, e il mestiere del sindacato è rappresentare e difendere i suoi lavoratori. Io mi aspetto che il sindacato sarà con noi inflessibile, non mi aspetto un sindacato che ce la farà passare liscia su ogni cosa, su ogni difficoltà, mi aspetto un sindacato che sia inflessibile, che sia in grado di ricordare ogni minuto la centralità del lavoro, la centralità della questione del lavoro nel nostro Paese. E io credo che se farete così, allora, sono convinto che se farete così, verrà fuori che quell'idea, quel detto che faceva parte dello spirito della tua relazione, cioè se alla fine c'è la CISL, se c'è il sindacato, è una notizia buona per l'Italia, riusciremo a trasformare questo messaggio in fatti concreti, in cose concrete, in cose positive, perché a noi ci accomuna una cosa, e credo che sia la cosa principale, ci accomuna, tu hai citato Don Mazzolari alla fine, a noi ci accomuna quella frase che ha fatto parte, almeno, della mia infanzia, come dell'infanzia di tanti di noi cresciuti in parrocchia, quella frase che il mio prete mi ricordava sempre quando mi scansavo da una responsabilità, che era difficile, c'era una cosa da scegliere, da decidere, vai tu a dirgliela, vai tu a dirlo e ti scansavi perché è faticoso assumersi le responsabilità. È molto meglio fare un passo indietro, rimanere puliti, lindi. E mi ripeteva sempre, ricordati sempre, che quando andrai di là, la prima cosa che ti chiederanno è, fammi vedere le mani, e se le mani saranno pulite, linde, senza nessuno, ti diranno, guarda che le mani così ce le hai perché le hai tenute in tasca, e non va bene, perché le mani servono per impastare e per far sì che il mondo sia migliore. Grazie e buon lavoro. Grazie.